Se io ritardo quello, lui è rimasto, porto fuori il corpo. Lui va fuori, e io metto. Nel momento che tocco, passo uno, e ghiaccio. Gamba, che era avanti, otto un'ora avanti, dopo aver colpito con l'altro braccio, piatto in giù. Prima la voce schivata, gamba dietro, uno, poi due, tre. Prima, gamba dietro, uno, due. Gamba dietro, uno, questo è importante. Questo è determinante. Poi avanti, due, tre. Non rimanendo sullo stesso posto. Io devo uscire per poi rimontrare, superando, superando. Ok? Qui ritroverete a ridosso, quindi controllo con la seconda tecnica. Preci controllo, controllo, controllo. Ok? Vai, vai. Gimelo. Forza.